Temptation Island, anticipazioni. Cos'è successo tra Raul e Martina? Gesto shock di lui. Che cosa accadrà tra Raul e Martina nella puntata di questa sera di Temptation Island? Martina si avvicinerà ancora di più al single Carlo? Come la prenderà il fidanzato? E lui si vendicherà facendo ingelosire Martina oppure chiederà un falò di confronto anticipato? Ecco che cosa avevano detto nel video di presentazione. Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Raul da 10 mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Raul per me è geloso e possessivo. Tant'è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà. Il nostro problema, che è la gelosia, non è in realtà per me così grave. Non sono neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e ho voglia di passare più tempo possibile con lei. E credo che la convivenza ci aiuti invece. Una volta entrati nel reality delle tentazioni, Raul ha fin da subito mostrato segnali di gelosia nei confronti della fidanzata dopo aver visto diversi video in cui Martina si è avvicinata sempre di più al tentatore Carlo. Questo suo atteggiamento di certo non ha aiutato il ragazzo a riflettere sulle sue fragilità e su cosa è meglio per la loro storia. Dall'altra parte, Martina, nonostante abbia sentito in diverse occasioni la mancanza di Raul, ha continuato a ribadire di non essere sicura di voler andare a convivere per via della sua gelosia. Col passare dei giorni si è trovata sempre più affine e in sintonia con il single Carlo, a tal punto da ammettere di volerlo frequentare anche al di fuori del contesto televisivo. Ma che cosa accadrà nella puntata di questa sera? Martina si avvicinerà ancora di più al tentatore? Tra i due succederà qualcosa? Nell'altro villaggio come reagirà Raul? Stando ad alcune indiscrezioni, in questa nuova puntata, Raul si lascerà andare ad un gesto clamoroso e del tutto inaspettato. Si avvicinerà ad una delle single e i due arriveranno quasi a sfiorarsi con le labbra. Il fidanzato lo farà per vendetta o perché realmente coinvolto dalla tentatrice. Come reagirà Martina? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprirlo!